Ora pagina sportiva, risolte le situazioni legate al nuovo direttore sportivo, al nuovo allenatore per il Pescara. Primi contatti sul fronte del calciomercato, sugli ultimi sviluppi ci riferisce il nostro Enrico Giancarli. Buon pomeriggio Carmine, un saluto a te e un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8 per parlare di quelle che sono le possibili operazioni in uscita del Pescara. A cominciare dalla portiere, Vincenzo Fiorillo. Più passano i giorni e più si avvicina la permanenza di Fiorillo al Pescara. Il portiere ha detto no alla regina, c'è stato un timido interessamento della ternana di Luca Leone, ma crescono le quotazioni per vedere Fiorillo in riva all'Adriatico anche nella prossima stagione. In difesa la questione spinosa è quella che riguarda Gennaro Scognamiglio. Il difensore ha un altro anno di contratto, anche a cifre importanti, e vorrebbe restare a Pescara. Le sue caratteristiche tecniche però difficilmente sono compatibili con il credo calcistico di Auteri, che nel suo 3-4-3 prevede una linea difensiva molto alta. Andrà via sicuramente Mirko Drudi, mentre per l'esterno Masciangelo c'è stato un timido interessamento dell'Ascoli, del Neo DS, Fabio Lupo. A centrocampo la questione più difficile è quella che riguarda Mirko Valdifiori. blindato da un contratto a cifre molto molto importanti, Valdifiori vorrebbe anche restare in biancazzurro, ma nel 3-4-3 di Auteri difficilmente riuscirà a trovare spazio. Situazione leggermente diversa per Memushay. Il centrocampista della Nazionale Albanese ha il contratto e potrebbe anche giocare nel 3-4-3 di Auteri, anche se non è il massimo per quelle che sono le sue caratteristiche. Chi invece si sposa alla perfezione con il modulo del tecnico biancazzurro è Busellato, che però ha delle offerte in Serie B. Potrebbe però prolungare il contratto e restare in biancazzurro. In avanti la situazione più delicata è quella che riguarda Cristian Galano. L'attaccante ha espresso la volontà di continuare a giocare in Serie B a un altro anno di contratto, ma il presidente Sebastiani non farà sconti. Gratis non si muove e se dovesse essere Serie C Galano preferirebbe tornare nella sua Bari. Sono queste, Carmine, le situazioni un po' più difficili da risolvere in casa biancazzurra. Il DS Matteassi è al lavoro per poter snellire la rosa e poi iniziare le operazioni in entrata. Il DS Matteassi è al lavoro per poter snellire le operazioni in Italia.